turno infrasettimanale prima del fermo natalizio con delfino e giulianova che provano lo sforzo di fine d'anno saccomandi ritrova la benedetta panchina bonati la terra caldissima fino alla fine e due tra le difese meno battute si danno il via gara bloccato per buona mezz'ora con ottimo tiro al nono di mattia cerasi che trova una risposta assolutamente straordinaria in santoro portieri in operose e squadre attentissime poi blackout di bocca nera minuto 33 che favorisce un'azione a sinistra dei padroni di casa al termine della quale capitano marzucco trova il vantaggio 1 a 0 le ali dell'entusiasmo sempre sul settore sinistro di attacco bianca azzurro combinazione veloce massa marzucco massa con diagonale vincente 2 a 0 si va al riposo con il delfino che capitalizza al massimo nel termine di due tiri due gol nella ripresa bianca azzurri tutti dietro la linea della palla e giulianova che inizia con grande pazienza a ricucire le trame del proprio gioco per raddrizzare il risultato solo una apparizione dei locali con lorenzo carrer gobbo che con un piattone privo di forza manda la sfera fuori specchio poi il monologo giallorosso in pratica solo giulianova fino alla fine santoro si accartoccia bene su calcio da fermo al tredicesimo mentre cinque minuti dopo è ancora santoro che risponde a francesco di paolo sotto porta 120 secondi e buonavoglia trova la deviazione vincente con un colpo di testa a colpire il delfino partita riaperta il giulianova a metà ripresa per cercare il pari 36esimo al giulianova banca un calcio di rigore non segnalato dal guardalinee e negato dal direttore di gara le immagini mostrano il tocco di mano di matteo paolilli con entrambi i piedi in area per papagno e solo calcio di punizione dal limite calcio da fermo di di paolo deviato in angolo il giulianova non si perde d'animo non si trovano varchi fino al pieno recupero clamorosa pallagol di persiani che si spegne sfortunatamente oltre il fondo si giocherà per altri cinque minuti tra interruzione qualche movimento di troppo fra le due panchine ma alla fine il delfino si conferma bestia nera per il giulianova che deve arrendersi ai pescaresi delfino bestia nera del giulianova forse ha concesso un po il primo tempo alla squadra di casa poi cercato di recuperare nella represa però secondo me è mancato un po di mordente allora non penso che sia bestia nera anzi il delfino ha fatto il gioco che sappiamo che fa e l'hanno fatto pure bene è normale che una scompitta che fa male non nego che fa male però da squadra giovane e umile che siamo la prendiamo e impariamo negli etrore che abbiamo fatto oggi noi lasciamo parlare di campionato a Avezzano all'Aquila che già dall'inizio avevano parlato di vittoria del campionato noi siamo vivendo la nostra favola tra virgolette noi non dobbiamo vincere niente noi il campionato ad aprile vediamo dove stiamo noi parlare di campionato adesso non è di nostra combatenza come ho detto la squadra noi possiamo perdere e vincere tutte le partite un passo per volta partita per volta senza parlare già di campionato non campionato è normale che noi in mezzo al campo ad andare a perdere partite non ci sta noi andiamo sempre per vincere partite e fare la partita come l'abbiamo fatta oggi le partite si rischia di non analizzarle tutte ci si dimentica di un primo tempo dove siamo stati molto superiori in tante cose io adesso sono parole di circostanza l'avevo detto all'andata quando erano stati gli unici a non perdere Giulianova il Giulianova è una squadra incredibile che è vero che è giovane ma da un talento clamoroso è un allenatore una società veramente eccezionale noi oggi abbiamo messo tutto quello che avevamo che non è poco su alcune qualità e che non era stato abbastanza per altre qualità abbiamo messo quella grinta che tu dicevi però la grinta senza qualità non si fa nessuna parte quindi i ragazzi li vogliamo ringraziare come società e come allenatore perché noi combattiamo con realtà più importanti i ragazzi percepiscono dei rimborsi limitati rispetto a quello che hanno oggi fatto vedere in campo e si sono meritati questa vittoria perché abbiamo sofferto in silenzio per tante settimane e dovremmo soffrire ancora perché questo è un campionato un po troppo alto in alcuni momenti per il nostro livello vi siete ripresi quello che vi è mancato domenica scorso contro la raducuri dove nel secondo tempo le avete provate tutte proprio sì non solo questa partita anche quelle precedenti san buceto c'era stato quell'inciampo involontario l'alba triatica un ricordo sbagliato però all'inizio del campionato abbiamo fatto brutte partite tranne quelle di giulianova e abbiamo raccolto qualcosa in più la classifica dopo 18 partite più o meno quella che ti meriti per cui abbiamo avete visto tutti un po le nostre qualità e se abbiamo perso altre partite evidentemente non le abbiamo messe alla stessa maniera come le abbiamo messe le due partite con giulianova dove abbiamo preso quattro punti che probabilmente sono veramente sperati come dice lei